E' un santo maso che a prescindere dalla categoria intende fare le cose in grande. I grifoni che hanno fidato la panchina a Franco Iannuzzi e che nei giorni scorsi hanno ufficializzato l'arrivo del bomber cioffi e del difensore calabrese dalle clanese si apprestano a mettere a segno altri due importantissimi colpi di mercato. Secondo indiscrezioni emerse i bianco-verdi sono ad un passo dal forte centrocampista bolognese anche lui con un passato recente nelle clanese ma gli arrivi importanti non potrebbero terminare qui infatti ci sarebbe stato un incontro con il bomber giuseppe guardabascio ex ariano e clanese nole grotta lo scorso anno è stato vice capo cannoniere del girone c di promozione con 21 gol realizzati con la maglia dell'accadia l'arriano sta tentando invece di ingaggiare l'attaccante antonio pugliese otto gol a mirabella nella passata stagione due giovani invece continueranno la loro avventura con il grotta di ferraro il club giallorosso ha confermato i baby del 99 gioele lepore e antonio pascuccio entrambi punte